buona giornata amici e bentrovati all'ascolto di fano tv cominciamo la giornata con la nostra rassegna stampa abituale leggeremo come sempre il resto del carlino il corrido adriatico per quanto riguarda le cronache locali sta lasciando comunque purtroppo le pagine nazionali dove si ripercorrono e si alternano le notizie di guerra per quanto riguarda l'ucraina ed un titolo piuttosto preoccupante questa mattina viene evidenziato dal resto del carlino che dice che putin userà armi mai viste mai provate quindi molto molto più terribili di quelle già provate terribili anch'esse fino al giorno d'oggi oggi comunque è una giornata assolata diciamo così speriamo che almeno nel nostro territorio ci sia tranquillità oggi è giovedì 28 aprile 2022 e ci poniamo sotto la protezione del santo del giorno è una santa è una santa che appartiene a una famiglia di santi diciamo così perché veramente sono santi tanto il marito quanto i figli si tratta di santa valeria di milano era la moglie di san vitale ufficiale dell'esercito martirizzato nella città di ravenna dove è stata eretta una bellissima chiesa a chiesa di san vitale è un gioiello d'arte apprezzato in tutto il mondo e anche madre di altri due santi martiri gemelli si tratta di san gervasio e protasio il suo volto è raffigurato nei mosaici di santa polinare nuovo proprio a ravenna uno scrigno appunto d'arte prezioso e veniamo alle previsioni del tempo vediamo che il sole questa mattina è sorto alle 6 e 04 e tramonterà alle 20 07 il tempo si mantiene stabile assolato in tutta la regione abbiamo una temperatura asciutta i cieli sono sereni o poco nuvolosi in mattinata temperature massime fino a 19 20 gradi il vento aspirerà sulle coste da una direzione da nord e nord est lo stesso per quanto riguarda l'interno le temperature usciranno tra gli 11 e come abbiamo detto 19 20 gradi quindi una temperatura del tutto primaverile apriamo il resto delle carlino questa mattina e vediamo che ci sono novità per quanto riguarda le terme di carignano carignano qualcosa si muove stiamo verificando le sorgenti ha detto l'advisor delle terme a breve in regione presenteremo il piano industriale e l'idea progettuale l'assessore fanesi il vice sindaco fanesi risponde dice era ora lo stiamo attendendo da tanto tempo ed esulta il comitato presieduto da beatrice morbidoni cauto invece pollegioni che rappresenta l'udc e insomma ha seguito con attenzione questo problema il segnale positivo ma ancora non c'è nulla di concreto si sono un po così alternate delle parole delle dichiarazioni per quanto riguarda il futuro di questo stabilimento ma ancora di concreto non esiste nulla se non l'acquisto che è stato effettuato da un gruppo appunto delle marche del sud di macerata per quanto riguarda insomma il futuro delle terme speriamo che questo si verifichi al più presto abbiamo anche una dichiarazione in questo sommario a luglio il territorio conoscerà le nostre intenzioni ha detto carlo buttaroni presidente di tecnè società advisor del progetto delle terme di carignano e l'area acquistata dal gruppo romani è sicura verrà verrà formalizzata nel mese di luglio quando appunto la città conoscerà le nostre intenzioni in autunno avvieremo la richiesta delle autorizzazioni siamo dunque all'inizio di una fase burocratica piuttosto complessa quindi ci vorrà ancora del tempo per vedere per vedere installato il cantiere nelle terme di carignano e per quanto riguarda invece un altro lavoro quello che si sta facendo nel complesso del sant'arcangelo vediamo che ai corsi si risponde con i ricorsi il sant'arcangelo finisce al consiglio di stato una nuova puntata della guerra dei ricorsi tra le due ditte la prima e la seconda che hanno partecipato alla gara d'appalto per l'attribuzione dei lavori si tratta del raggruppamento di impresa composta dalle costruzioni pensi di mandaloni consorzio stabile artemide di roma e cooperativa edilfaste di parete e la società milanese fratelli navarra nella gara d'appalto indetta dal comune per la giudicazione dei lavori ebbene al ricorso che ha fatto la seconda ditta che ha appunto fermato le bocce per quanto riguarda una sentenza che poi è arrivata dal tar la prima che ha vinto la gara d'appalto ma ha perso il ricorso al tar fa appello al consiglio di stato quindi le cose insomma si stanno veramente prolungando speriamo che si risolvano al più presto e ieri c'è stata la riunione a san cesareo dei residenti di carrara con i tecnici di terna presente anche l'amministrazione comunale è stata una riunione piuttosto animata i residenti hanno ancora fatto presente i disagi e difficoltà che derivano dal rumore che emette la centrale esistente buona parte della riunione è stata dedicata a questo tema perché il controllo fatto da terna per pura coincidenza è capitato in una giornata in cui il rumore era minimo e quindi non c'era alcun problema in realtà nelle altre giornate il rumore aveva raggiunto quote considerate intollerabili dagli stessi residenti terna però è stata conciliante e ha detto che proseguirà con i controlli fino a quando i residenti lo vorranno quindi anche per una settimana due settimane e poi tra le sue conclusioni 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 che però dovranno essere ratificate dall'ARPAM ecco perché ha detto luciano benini che lui tutti conosciamo come ex ARPAM presente appunto alla riunione ha detto che terna non ha alcun interesse a minimizzare la questione del rumore perché poi terna dovrà poi arma dovrà certificare quanto verrà quando emergerà quando verrà rilevato e poi si è parlato anche delle opere compensative che avrebbe dovuto essere il vero tema della riunione opere compensative che i carraresi hanno chiesto che vengano realizzate in maniera prevalente nella loro frazione perché lì è prevalente il disagio procurato dalle nuove costruzioni il sindaco ha parlato anche comunque di lavori che verranno fatti negli elettrodotti cittadini e quindi ci parlerà anche di altri interamenti comunque non è l'ultima riunione questa che si farà per quanto riguarda l'Adriatic Link il nuovo elettrodotto interrato che dovrà unire appunto la nostra provincia con l'Abruzzo passando poi per via mare con l'innesto di Metauriglia ce ne saranno altri incontri e vedremo che cosa poi si farà effettivamente pandemia gli studenti mettono in scena le paure è un'iniziativa questa di due istituti scolastici che fanno parte del polo 3 l'olivetti e il seneca sono i ragazzi che per esorcizzare tutti i loro disagi diciamo così paure e timori che hanno provato durante due anni di pandemia hanno messo in scena uno spettacolo uno spettacolo che verrà rappresentato sabato prossimo alle 17 30 nella sala Verdi del teatro della fortuna abbiamo cercato di trasformare in una performance la voglia di riscatto dei ragazzi dopo due anni di covid il polo 3 protagonista di uno spettacolo gratuito sabato alle 17 30 ci farà comunque la mascherina e il green pass rinforzato con l'orchestra sinfonica rossini che farà degli intermezzi con una sinfonia di britain insomma che intervallare intervallerà la recitazione degli studenti e poi una bella iniziativa che viene evidenziata da questo articolo di fondo pagina del carlino dove si pagavano le tasse vi ricordate che una volta si pagavano le tasse in tendenza di finanza era palazzo montevecchio nei pressi del giardino leopardi qui vediamo la fotografia del palazzo un bellissimo palazzo seicentesco al piano nobile c'era appunto l'ufficio delle tasse delle imposte ebbene questa questo appartamento è stato trasformato in un artist rinespace una nuova idea imprenditoriale di due ragazzi sono over 30 davide nobilini alessandro gobbi che hanno aperto palazzo montevecchio un iniziativa intitolato fabbrica urbana ebbene è un'iniziativa poliedrica dove ci si potrà trovare uno studio di registrazione una sala dedicata alla musica elettronica la sala del co-working e ancora all'interno di fabbrica urbana anche una residenza artistica per ospitare appunto con il salotto camera cucina e bagno gli artisti ospiti della struttura quindi un centro culturale di grande importanza si fa musica si fa ricerca si fa lavoro una bella iniziativa in un palazzo tra i più belli dovrebbe essere però restaurato della città di fan primo maggio in spiaggia i bagnini sono pronti inizia la prossima stagione turistica la prossima stagione balneare la domenica gran parte degli stabilimenti e dei chioschi sarà aperta l'articolo riguarda in modo particolare la spiaggia di marotta ma insomma si può così riferirlo a tutte le spiagge del litorale pesarese e la presidente della consulta anche gli alberghi si stanno attrezzando una voglia di prima tintarella insomma è grande perché poi l'inverno non è stato agile con tutti i problemi che ha comportato la brutta stagione sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico insomma un po di relax in spiaggia di spensieriatezza ci vuole e i bagnini si stanno attrezzando per qualificare le loro strutture ed accogliere i turisti a urbino si parla del festival del giornalismo culturale una iniziativa che festeggia dieci anni di attività l'ha realizzata l'el mazzoli che annuncia le novità per l'edizione di quest'anno eventi solo ad urbino purtroppo non ci sono eventi decentrati una volta si veniva anche affano cercheremo di capire se dal web si torna alla carta stampata ha dichiarato appunto l'el mazzoli che qua vediamo nella fotografia con zanchini e dorfles direttori e presidente del festival sono letti solo dai vecchi o anche dai giovani il ruolo del podcast il caso degli inserti verrà esaminato appunto in questa iniziativa e poi vediamo un incidente sono stati travolti due sedicenni all'uscita di scuola si tratta di due ragazze che uscivano dalla scuola del libro poco dopo le 13 nella giornata di ieri hanno 16 anni e ad investirle è stata una fiat panda condotta da una donna di 58 anni del posto l'impatto avvenuto alla rotatoria di via fontanoni proprio di fronte all'ingresso dell'ospedale e poi vediamo un appello un appello annunciato dalla sindaca di borgo pace romina pierantoni che si rivolge direttamente al presidente mattarella salvate la nostra scuola dovrebbe essere trasferita a mercatello sul metauro insomma c'è parecchia distanza tra borgo pace e mercatello una distanza che dovrebbero percorrere tutti i giorni i bambini per andare a scuola l'appello si riferisce al fatto che la scuola di borgo pace è l'ultimo presidio rimasto dello stato quindi occorre una presenza istituzionale nei confronti anche delle piccole realtà che sono un po' decentrate che sono nell'entroterra l'istituto è stato rinnovato due anni fa d'Ancona guardano i numeri e spazzano via tutto per ragioni di economia ma la scuola vuol dire anche socialità vuol dire anche cultura e poi vediamo ancora a Fossombrone c'è la fiera delle polemiche cos'è questa fiera delle polemiche è la fiera di Sant'Aldebrando che è stata annullata dall'attuale amministrazione comunale per ragioni economiche la questione è questa si può creare un forte passivo per tentare di mantenere viva un'antica tradizione ebbene è una domanda a cui insomma bisogna riflettere prima di rispondere sì perché mantenere viva una tradizione è bello ma quanto costa e per quest'anno la fiera di Sant'Aldebrando è stata annullata comunque questo non sta bene all'opposizione e mei e Chiara Belli si scontrano senza sosta su questo problema vediamo ora le pagine pesaresi si parla di teatro Rossini dei lavori che si stanno facendo su questo tempio della cultura cittadina e vediamo che la sicurezza impone lo stop insomma non è pronto quest'anno il teatro per ospitare il ROF e tutte le altre manifestazioni solo la platea potrebbe essere aperta i palchi no perché poi il pubblico per entrare e uscire dai palchi dovrebbe passare per la sala della repubblica dove sono in atto i lavori e quindi questo non è possibile e poi si parla di antenne si parla di antenne perché dopo la protesta di Soria la protesta è montata anche in altri quartieri 12 nuove antenne ma in città sono già 101 il comune corra ai ripari nessun pericolo per la salute affermano gli amministratori e si è sollevano il caso dei nuovi impianti di telefonia dopo le proteste a Soria a prode in consiglio comunale grazie all'interrogazione dell'opposizione radaelli di forza italia chiediamo un quadro completo di tutti i siti ha dichiarato il consigliere intanto l'amministrazione ha incassato dagli affitti degli spazi 120 mila euro nel 2020 insomma una situazione delicata quella che si trova a confrontare e a pesaro soprattutto per quanto riguarda le nuove antenne del 5g e vedremo come andrà a finire perché poi anche montegranaro non molla e anche qui c'è la protesta oltre quella di Soria avanzo di bilancio parliamo sempre di consiglio comunale perché questo è stato l'argomento che si è discusso nella civica sese avanzo di bilancio da 7 milioni di euro ma è bagarre sui fondi alle scuole l'opposizione accusa in consiglio troppo pochi 100 mila euro per garantire la manutenzione degli edifici scolastici vi preoccupate solo e questa è stata un po' l'accusa il rimbrotto rivolto alla giunta vi preoccupate solo del taglio dei nastri il sindaco replica investito tantissimo nei servizi educativi e beh vediamo un po' i numeri e raffronti nel 2015 solo per gli asili c'erano 554 mila euro 280 mila nel 2016 si è via via poi ridotto lo stanziamento una sinfonia di pace per kharkiv la città martoriata dell'ucraina dall'esercito russo con il maestro in fuga dall'assedio c'è stato un concerto di solidarietà allo sperimentale il sindaco ricci aiuteremo a ricostruire i luoghi della cultura anche in ucraina in sala anche diana il giovane talento del pianoforte lo vediamo qui in questa bella fotografia dove il direttore d'orchestra stringe la mano alla ragazza è una concittadina del direttore d'orchestra iuri yanco insomma provengono da kharkiv la città appunto assediata e poi veniamo alla cronaca abusi su una bambina un articolo di una vicenda squallida abusi su una bambina barista rischia tre anni questa è la pena richiesta dalla procura per un sessantenne pesarese accusato di violenza ai danni di un'amichetta della figliastra l'uomo ha iniziato con il classico gioco del dottore fino a spingersi a veri palpeggiamenti la ragazzina però ha raccontato tutto alla mamma e di qui è nata la denuncia e quindi il confronto in tribunale l'addio ad andrea giommi domani alla chiesa del porto ancora un mistero il motivo del suicidio del carabiniere avvenuto appunto l'altro giorno si svolgeranno domani venerdì alle 10 e la chiesa del porto i funerali appunto dell'appuntato scelto dell'arma dei carabinieri che si è sparato alla testa non c'è una spiegazione né un indizio per un gesto di questo tipo infatti anche nella giornata di ieri non ci si spiegava come questo poteva essere avvenuto e veniamo ora al corriere adriatico dove l'apertura sulla pagina di fano è dedicata al carnevale il carnevale tira ancora la cinghia vengono ridotti di molto gli stanziamenti per l'edizione di quest'anno un'edizione che avrebbe dovuto costare se tutto si fosse svolto normalmente sui 7 800 mila euro in realtà il budget è di 200 mila euro gli sponsor privati sono molto molto diradati hanno finanziato il carnevale per 36 mila euro resta comunque il sostegno del comune della regione del ministero e della fondazione carifano il 13 e 14 agosto ci sarà la sfilata con 7 piccoli carri che sfileranno sulle lungomare di sassonia mentre i bambini saranno protagonisti per due giornate il 4 e 5 giugno insomma c'è una relazione fatta dalla presidente dell'ente carnevalesca maria flora gian marioli all'amministrazione comunale per quanto riguarda il programma del carnevale di quest'anno un programma per forza di cosa ridotto ma l'impegno della carnevalesca per realizzare questa grande manifestazione non cessa non termina quindi per quanto riguarda la situazione si cercherà di fare sempre meglio e poi anche il Corriere Adriatico parla dello spettacolo che verrà realizzato dagli studenti del Polo 3 nella sala Verdi sabato prossimo si intitola lo stupore della meraviglia gli studenti salgono sul palco appuntamento sabato al teatro l'ingresso è gratuito lungomare di sassonia arrivano i soldi finanziati anche i due cantieri di Sant'Orso in consiglio comunale questa sera a Fano si parlerà anche di avanzo di amministrazione e quindi anche di variazione di bilancio perché ci sono 4 milioni 300 mila euro che verranno impiegati per realizzare diverse opere pubbliche a partire dal secondo stralcio del waterfront 2 milioni che verranno impiegati per rivoluzionare e riqualificare il lungomare di sassonia e poi ci sono tante altre iniziative 150 mila euro per finanziare i lavori necessari a realizzare il percorso visite del teatro romano finalmente quest'area archeologica verrà mostrata al pubblico e poi ancora finanziamenti a Sant'Orso 120 mila euro per la nuova rotatoria e 230 mila per il campo sportivo 550 mila euro per le scogliere di sassonia e poi ancora 100 mila euro per incarichi di viabilità altri 100 per il software e l'hardware di sicurezza 65 mila euro per interventi e acquisti al museo civico insomma ancora un tesoretto che verrà impiegato per realizzare opere importanti di carattere pubblico Terna prolunga e amplia i controlli l'ultima parola spetta ad ARPA è l'articolo che riguarda l'incontro che si è svolto ieri lo vedete qui nella fotografia a San Cesario tra i tecnici di Terna l'amministrazione comunale e i cittadini che vogliono sicurezza soprattutto per quanto riguarda la loro salute la loro incolumità per le probabili radiazioni ipotetiche radiazioni che potrebbe trasmettere il nuovo impianto che così non è secondo appunto i tecnici dell'azienda per l'energia elettrica a Pergola si parla dell'orto bio un caso da studiare una bella iniziativa realizzata dall'istituto scolastico dell'istituto comprensivo Binotti di Pergola è un'eccellenza un'eccellenza della agroecologia si tratta di una vera azienda in miniatura una piccola azienda che verrà illustrata oggi durante un convegno che racconterà questo modello di One Welfare insomma una bella iniziativa fatta dalla scuola che però trova applicazioni concrete anche nella realtà a Senigallia arrivano i nuovi parcometri high tech la sosta si pagherà con il Bancomat il Comune investe 200.000 euro per 29 dispositivi gli ausiliari però, attenzione controlleranno anche targhe e revisioni saranno utilizzati nel periodo estivo nei tratti delle lungomare più affollati e saranno ricollocati a fine settembre nel centro storico quindi avremo parcometri tecnologici che verranno utilizzati appunto con una scheda con una tessera per pagare la sosta e ancora a Senigallia litiga a casa e fugge nella notte un ragazzino ritrovato dopo otto ore paura a tre castelli il quindicenne è stato rintracciato dai carabinieri nel centro storico di Scapezzano per fortuna una vicenda che è finita a lieto fine e quindi non ci sono stati problemi per quanto riguarda questo ragazzino Don Sandro, cammino da vescovo è un articolo che viene pubblicato sulla pagina di Fermo però interessa anche Pesaro perché Don Sandro sarà nominato vescovo della città di Pesaro proprio tra pochi giorni Don Sandro, cammino da vescovo qui resterete tutti nel mio cuore dalla parrocchia di Monte Granaro alla diocesi di Pesaro domenica prossima l'ordinazione ebbene abbiamo una iniziativa Don Sandro ha salutato con il cuore in mano i suoi parrocchiani ebbene è stata una parentesi molto importante della loro vita quella trascorsa a Monte Granaro ora comincia un'altra fase quella della diocesi di Pesaro come sostituto di Monsignore Coccia vediamo anche una notizia di sport nella giornata di oggi vediamo una notizia di sport per quanto riguarda la vis grazie tifosi non smettiamo di sognare il presidente Bosco scrive al pubblico della vis sono deluso come voi per certe batoste lo dico io ora che la squadra ha preso in alcune partite però insomma quando andremo ai playoff la gioia sarà più grande perché vinceremo questa è stata un po' l'iniezione di fiducia effettuata dal presidente e per quanto riguarda invece il Fano Calcio vediamo che la strada per la salvezza pone il nome di Casolla Fano altre due vittorie ed è fatta ha dichiarato appunto il giocatore ieri il vasto Girardi ha pareggiato uno a uno nel recupero contro il Pineto staccando in classifica i Granata e quindi c'è ancora qualche speranza insomma che si rimanga almeno in questo girone ed era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20-30 con occhio alla notizia sulle TG di Fano TV questo è tutto grazie per l'ascolto a risentirci